Amici 23, terza puntata. Il talent di Maria De Filippi, arrivato alla fase del serale e dunque la più attesa, è pronto a tornare in tv. Sabato 6 aprile 2024 si rinnova l'appuntamento con i protagonisti di questa edizione, ovviamente in prima serata e su Canale 5. Come noto, non è in diretta e le registrazioni sono state realizzate giovedì 4 aprile, dunque alcuni spoiler sono già disponibili per il pubblico più impaziente. Sappiamo per esempio che l'ospite musicale di questa terza puntata del serale di Amici 23 e Tananai, che canterà il nuovo singolo a veleno. Barbara Foria è invece confermata come ospite comica. Tre le squadre in sfida, dunque per Lorella Cucarini ed Emanuello le ballerine Lucia e Sofia, i cantanti Mida e Sara Toscano. Con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i cantanti Petit e Olden e i ballerini Dustin e Marisol. Infine nel team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia. Ma andiamo alle anticipazioni, mai succose come questa settimana. Perché per la prima volta in questo serale c'è una sola eliminazione. Nelle precedenti due puntate infatti sono stati quattro gli allievi a lasciare la scuola. Hanno già visto sfumare la possibilità di vittoria il cantante e i ballerini Kumo, Nicolas e Giovanni, quindi l'unica squadra ad oggi a non avere avuto eliminazioni è quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma come detto da questo sabato cambia tutto, l'eliminato sarà solo uno e sarà così probabilmente fino alla semifinale. A finire al ballottaggio, in questa terza puntata, ci sono finite Lucia e Sofia. Lucia è fra le favorite, Sofia è invece stata un po' nell'ombra. Maria De Filippi svelerà come sempre il nome dell'eliminata in casetta, lontano dal pubblico. Che però questa volta non accetta la sfida. Assurdo, se qualche mese fa mi avessero detto che avremmo perso una di questi due talenti alla terza puntata non ci avrei creduto, Lucia era da finale e Sofia la più derubata di questa edizione. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.